Mi hanno scritto chiedendomi di collaborare a un'ontologia di fiabe per l'infanzia. Rispondo che non scrivo racconti per bambini. Ribattono che a un recente congresso-seminario-fiera del libro un certo romanziere ha detto che ogni narratore dovrebbe scrivere almeno una fiaba. Ho pensato di mandargli una cartolina per dirgli che non accetto il fatto di dover scrivere qualcosa. Ma poi questa notte mi sono svegliata. O meglio, qualcosa mi ha svegliata. E ancora non so bene cosa. Una voce nella cassa di risonanza dell'inconscio. Un suono. Uno scricchiolio, simile a quelli prodotti dal peso di un piede dietro l'altro lungo un parquet. Mi sono messa in ascolto. Ho sentito le orecchie aprirsi fino allo spasimo per la concentrazione. Un'altra volta. Uno scricchiolio. Sono rimasta in attesa. In attesa di sentire se i piedi si stavano muovendo da una stanza all'altra lungo il corridoio fino alla porta della mia camera. Io non ho sbarre antifurto. Non tengo pistole sotto il cuscino. Ma ho le stesse paure della gente che prende queste precauzioni. E i vetri della mia finestre sono fragili come la brina. Potrebbero andare in mille pezzi come un calice di cristallo. L'anno scorso, a due isolati da qua, una donna è stata assassinata, come si dice, in pieno giorno nella sua casa. E i feroci mastini che montavano la guardia a un anziano vedovo e alla sua collezione di orologi antichi sono stati strangolati prima che l'uomo stesso venisse accoltellato da un lavoratore occasionale. Nell'oscurità fissavo la porta, figurandomela nella mente più che osservandola. Giacevo perfettamente immobile, già come una vittima. Ma l'aretmia del mio cuore impazzava, urtando di qua e di là contro la gabbia toracica. Come sono magnificamente affinati i sensi, appena fuori dal riposo, dal sonno. Nella confusione del giorno non potrei mai sentire in modo altrettanto intenso. Decifravo ogni suono, anche il più debole, identificandone e classificandone ogni possibile minaccia. Ma poi capì che non mi avrebbero né minacciata né risparmiata. Non c'era nessun peso umano sulle assi del parquet. Lo scocchiolio era dovuto a qualcosa che aveva ceduto, un epicentro di tensione. E io ero lì dentro. La casa che mi circonda mentre dormo è costruita su un terreno, vuoto sotto la superficie. Molto lontano sotto il mio letto, il pavimento, le fondamenta della casa, gli scavi e i cunicoli delle miniere d'oro hanno eroso la roccia. E quando là sotto, a novecento metri di profondità, qualche fronte trema, si stacca e crolla, l'intera casa si sposta un poco e una lieve tensione si contrappone al peso e contrappeso di mattoni, cemento, legno e vetro che tengono insieme la struttura attorno a me. I battiti irregolari del mio cuore a poco a poco sono svaniti, come gli ultimi suoni smorzati provenienti dagli xilofoni di legno, degli emigranti ciopi e zonga, che forse, in quel momento, si trovavano laggiù nella miniera, nella terra sotto di me. Forse il cantiere in cui si era verificato il crollo era in disuso, perdeva acqua dalla frattura di una vena, oppure, forse, degli uomini, in quel momento, erano rimasti sepolti laggiù nella più profonda delle tombe. Non riuscivo a trovare una posizione che permettesse alla mente di allentare la presa sul mio corpo, liberarmi per dormire ancora. E così ho cominciato a raccontarmi una fiaba, una fiaba della buonanotte. In una casa, in un quartiere elegante, in una grande città, vivevano un uomo e sua moglie, che si amavano moltissimo e vivevano felici e contenti. Avevano un bel bambino, che amavano moltissimo, avevano un gatto e un cane, che il bambino amava moltissimo. Avevano una macchina e una roulotte per le vacanze e una piscina recintata, perché il bambino e i suoi compagni di giochi non corressero il rischio di caderci dentro e di annegare. Avevano una domestica di cui si fidavano ciecamente e un giardiniere a ore, di cui i vicini tessevano le lodi. Già che, non appena avevano cominciato a vivere felici e contenti, una strega vecchia e saggia, la madre del marito, li aveva messi in guardia dall'assumere gente senza sapere nemmeno chi fosse. Erano iscritti a una società di mutuo soccorso, il cagnolino era munito di regolare medaglietta, erano assicurati contro incendi, allagamenti e furti e avevano aderito al locale istituto di vigilanza, che aveva fornito loro una targa per i cancelli con la scritta «Siete stati avvertiti», stampata sulla silhouette di un potenziale intruso. Essendo mascherato, non si poteva dire se l'uomo fosse bianco o nero, il che dimostrava che il proprietario non era un razzista. Non era stato possibile assicurare la casa, la piscina e la macchina contro danni derivanti dai disordini nelle strade. Disordini infatti ce n'erano, ma fuori della città, dove alloggiavano persone la cui pelle era di un altro colore. Questa gente non era autorizzata a circolare nei quartieri alti se non in qualità di domestici e giardinieri, sicché non vi era ragione di aver paura, aveva detto il marito alla moglie. Eppure lei temeva che un giorno o l'altro quella gente potesse arrivare lì, strappare via la targa «Siete stati avvertiti», aprire i cancelli e riversarsi dentro. «Ciocchezze, mia cara», aveva detto il marito. «Ci penseranno la polizia e l'esercito a tenerli lontani con gas lecrimogeni e fucili». Ma per farle piacere, poiché l'amava moltissimo. E nel frattempo si incendiavano gli autobus, si prendevano a sassate le macchine e la polizia ammazzava i ragazzini nelle zone fuori mano, lontano dagli occhi di chi risedeva in quel quartiere, fece installare dei cancelli azionati elettronicamente. Chiunque avesse staccato la targa «Siete stati avvertiti» e cercato di aprire i cancelli avrebbe dovuto annunciare le proprie intenzioni premendo un pulsante e parlando in un citofono collegato alla casa. Il bambino era incantato da quel dispositivo e cominciò a usarlo come walkie-talkie quando giocava a guardie e ladri con i suoi amichetti. I tumulti nelle strade vennero sedati, ma nel quartiere si verificarono molti furti e la fidata domestica di non so più chi venne legata e imbavagliata in un armadio dai ladri mentre si trovava in servizio nella casa del suo datore di lavoro. La fidata domestica dell'uomo e della moglie e del bambino fu così turbata dalla notizia della sfortuna che aveva colpito l'amica, la quale, come spesso accadeva a lei con i beni dell'uomo e della moglie e del bambino, era stata lasciata tutta sola in balia di una responsabilità tanto grande che supplicò i padroni di mettere delle sbarre antifurto alle porte e alle finestre, nonché di fare installare un sistema d'allarme. Disse la moglie, ha ragione, diamo l'oretta. E così, da ogni finestra e da ogni porta della casa in cui vivevano felici e contenti, adesso gli alberi e il cielo si vedevano attraverso le sbarre, e quando di notte il micio del bambino si arrampicava su per la lunetta per tenergli compagnia nel suo lettuccio, come era solito fare, nella casa scattava il suono acuto dell'allarme che riecheggiava simile a un lamento funebre. Spesso accadeva che all'allarme facessero eco, a quanto pareva, altre allarmi antifurto, in altre case, azionati da amicetti o topolini intenti a rosicchiare qualcosa. Si rincorrevano di giardino in giardino, con suoni acuti e gemiti e lamenti greci, a cui ben presto tutti si abituarono, sicché lo strepito svegliava gli abitanti dei quartieri alti, né più né meno del gracidio delle rane e del musicale strofinio degli arti delle cicale. Ben protetti dalle conversazioni di quelle arpie elettroniche, gli intrusi segavano le sbarre di ferro facendo irruzione nelle case, portandosi via impianti stereo, televisori, registratori, apparecchi fotografici e radiofonici, gioielli e vestiti. E talvolta avevano così tanta fame da divorare tutto quello che trovavano nel frigorifero, oppure erano tanto audaci da sostare sul patio per farsi un whisky. Le compagnie di assicurazione non rifondevano i clienti per la perdita di un po' di malto, una perdita resa tanto più acuta dalla consapevolezza del proprietario che i ladri non erano neppure in grado di apprezzare quanto avevano bevuto. Poi venne il tempo in cui molti di coloro che non erano domestici né giardinieri fidati si misero a vagare per i quartieri alti in cerca di un'occupazione. Alcuni importunavano gli abitanti chiedendo lavoro. Erano disposti a strappare l'erbacce oppure a verniciare un soffitto, qualunque cosa signore. Ma l'uomo e sua moglie ricordavano l'avvertimento. Non dovevano assumere nessuno senza sapere chi fosse. Altri bevevano liquori imbrattando le strade con le bottiglie vuote. Altri ancora chiedevano l'elemosina aspettando che l'uomo o sua moglie uscissero in macchina dai cancelli azionati elettronicamente. Sedevano dove capitava, con i piedi nei rigagnoli, sotto le jacarande che avevano trasformato la strada in un tunnel di verde, poiché era un gran bel quartiere, deturpato solo dalla loro presenza. E a volte si addormentavano in pieno meriggio proprio davanti ai cancelli. La moglie non riusciva a sopportare la vista di chi aveva fame. E così inviava loro la fidata domestica con pane e tè. Ma la fidata domestica diceva che quelli erano dei fannulloni, dei mascalzoni che l'avrebbero legata e imbavagliata. in un armadio, disse il marito. Ha ragione. Dalla retta, con il tuo pane e il tuo tè li incoraggi soltanto. Non aspettano altro che il momento buono. E la sera portava in casa il triciclo del bambino, perché anche se la casa era certamente sicura, con tutte le porte sprangate, con l'allarme in funzione, qualcuno avrebbe comunque potuto benissimo scavalcare il muro di cinta o i cancelli azionati elettronicamente e introdursi nel giardino. Ma hai ragione, disse la moglie. Allora il muro dovrebbe essere più alto. E la strega vecchia e saggia, la madre del marito, pagò i mattoni extra. E quello fu il suo regalo di Natale per il figlio e sua moglie. Il bambino ebbe una tuta d'astronauta e un libro di fiabe. Ma non passava settimana, senza che giungessero sempre nuovi resoconti di intrusioni. In pieno giorno e a notte fonda, alle prime luci dell'alba e persino nella dolce luce del crepuscolo estivo, una certa famiglia stava cenando, mentre al piano di sopra le camere da letto venivano saccheggiate. L'uomo e sua moglie, intenti a parlare delle ultime rapine a mano armata nelle quartiere, vennero distratti dal micetto del bambino, che arrampicatosi senza sforzo su per il muro di cinta, alto due metri e passa, in un primo momento era sceso lungo la superficie perpendicolare con un rapido movimento delle zampe anteriori ben tese, e quindi, dopo un balzo aggraziato, era atterrato tutto scodinzolante all'interno della proprietà. L'intonoco del muro era segnato dal via vai del gatto, mentre sul lato esterno vi erano chiazze più grandi, di terra rossiccia, che avrebbero potuto benissimo essere state lasciate da un paio di scarpe da tennis bucate, del tipo che si vedeva ai piedi di tutti quei perdigiorno disoccupati, il cui obiettivo non era altrettanto innocente. Ora, quando l'uomo e la moglie e il bambino portavano a spasso il cane per le vie del quartiere, non si fermavano più ad ammirare la meraviglia di un cespuglio di rose o la perfezione di un prato. L'uno e l'altro erano celati da una vasta gamma di recinzioni, muri e dispositivi di sicurezza. L'uomo, la moglie, il bambino e il cane sfilavano davanti a una vasta scelta, e c'era l'opzione più a buon mercato, consistente in cocci di vetri rotti incastonati in una colata di cemento lungo la parte superiore del muro. C'erano guglie di ferro che terminavano in lancia cuminate, e c'erano tentativi di conciliare l'estetica dell'architettura carceraria con lo stile delle ville spagnole, guglie verniciate di rosa, e con le anfore in gesso delle facciate neoclassiche, sbarre lungo una trentina di centimetri, terminanti in un zigzagare di lampi, il tutto verniciato di bianco immacolato. Su alcuni muri c'era una targhetta con il nome e il numero di telefono della ditta responsabile dell'installazione dei dispositivi. Mentre il bambino e il cucciolo correvano a perdifiato, il marito e la moglie confrontavano l'eventuale efficacia di ciascun stile al di là delle apparenze. E nel giro di alcune settimane, fermandosi davanti ora all'una ora all'altra di quelle barricate, senza nemmeno consultarsi, giunsero entrambi alla stessa conclusione. Solo una valeva la pena di essere presa in considerazione. Era la più brutta, ma anche la più onesta nel suggerire un puro stile da campo di concentramento, senza fronzoli, tutta efficacia. Sistemata per tutta la lunghezza del muro di cinta, consisteva in una spirale continua di metallo rigido e lucente, frammezzato da lame dentellate, sicché non sarebbe stato possibile né arrampicarsi sopra né intrufolarsi dentro il tunnel che essa formava senza restare impigliati in quelle punte acuminate. Non ci sarebbe stata via di salvezza. Solo una lotta sempre più cruenta e sanguinosa, con la pelle uncinata e lacerata, sempre più in profondità. Guardandola, la moglie fu percorsa da un brevido. «Hai ragione», disse il marito, «chiunque ci penserebbe su due volte». E diedero retta a una targhetta fissa al muro, rivolgersi a «i denti del drago», al servizio della vostra più assoluta sicurezza. Il giorno seguente, una squadra di operai sistemò la spirale con le sue lame affilate come quelle di un rasoio, lungo tutto il muro di cinta della casa, dove il marito e la moglie, il bambino, e il cagnolino e il micetto vivevano felici e contenti. Il sole scagliava i suoi dardi fiammeggianti sui denti di metallo, la cornice di spine acuminate cingeva abbagliante la casa. Disse il marito, «sta tranquilla, non resisterà alle intemperie», ribatté la moglie, «ti sbagli, garantiscono che è inossidabile». E attese che il bambino corresse a giocare lontano prima di aggiungere. «Mi auguro che il gatto stia attento», disse il marito, «a non preoccuparti, mia cara, i gatti guardano sempre prima di saltare». E in effetti, da quel giorno, il gatto dormì sempre nel lettuccio del suo piccolo padrone e non si allontanò mai dal giardino, non correndo così il rischio di infrangere la sicurezza. Una sera, per farlo addormentare, la mamma lesse al suo bambino una fiaba del libro che la strega vecchia e saggia gli aveva regalato per Natale. Il giorno dopo, egli fece finta di essere il principe che sfida il terribile roveto per entrare nel palazzo e con un bacio ridestare la bella addormentata. accostò una scala al muro. La lucente spirale del tunnel era abbastanza larga da permettere al suo corpicino di infilarvisi dentro. E non appena i primi denti accuminati gli si conficcarono nelle ginocchia e nelle mani e nella testa. Lui si mise a urlare e a dimenarsi così forte che finì sempre più prigioniero di quel groviglio. La fidata domestica e il giardiniere a ore, poiché quello era il suo giorno, accorsero subito, la prima per gridare insieme al bambino, mentre l'altro si straziava le mani nel tentativo di afferrarlo. A quel punto l'uomo e la moglie si precipitarono fuori. Per qualche ragione il gatto probabilmente scattò l'allarme e quel lamento funebre si unì alle grida mentre la massa sanguinante mutilata del bambino veniva estratta dalla spirale di sicurezza per mezzo di seghe, pinze tagliafili, trinciapaglia. E tutti insieme, l'uomo, la moglie, la domestica fidata e isterica e il giardiniere in lacrime, la trasportarono in casa. Grazie. Grazie. Grazie.